eccoci qua pronti per il maridozzo sorrentino in che consiste? maridozzo ormai è famoso a parte da Roma ma arriva in tutto il mondo noi lo facciamo al limone perciò lo facciamo sorrentino, vedi il nostro limone di sorrento, bello fresco, profumatissimo a questo punto dà un senso di freschezza quindi diventa un maridozzo estivo c'è qualcuno che ha richiesta ci mettiamo un po' di limoncello nella brioche e poi il maridozzo è una pasta più morbida della brioche, eccolo qua e vai, che ne pensi? bellissimo ti piace? molto questo è un borce che nasce dall'antica Roma lo sai, era una pasta di pane con miele un po' di giù e si abbondiamo dai o no? abbondiamo ancora? ancora un po' mamma mia che buona questa parte oh 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 e vai ecco qua e da questa parte andiamoci signori possiamo ordinare? ora dobbiamo andare al banco ma al banco? posso? un po' di limone non è finita ragazzi quindi annunciamo questo sì presentiamo presentiamo questo sorrentino per domenica 19 facciamo il maridozzo dei sorrentino ah il maridozzo? sì come qua come in Firenze? uguale? a Roma a Roma? bene e come? è la nostra versione un po' più sorrentino ancora perché riprende un po' la nostra delizia al limone vedi? eccola qua riprende un po' la nostra delizia al limone e quindi questa voglia sempre di limone che non ci abbandona mai eccola qua il nostro maridozzo sorrentino questo invece è il maridozzo classico quindi in questa festa del 19 noi facciamo il maridozzo dei che facciamo la panna di vari gusti limone, fragola, cioccolato, nutella quindi sarà un maridozzo festival ok? ci aspettiamo ciao